ciao amici del mylab oggi parliamo di dimagrimento questa mania di essere sempre magri che ci fa addirittura trascurare qualche volta la cosa più importante che è la salute il dimagrimento è importante il fatto di pesare meno di avere meno accumulo di grasso corporeo porta un sacco di vantaggi questo è una cosa assodata e io non mi discosto da questo quando abbiamo intervistato i nostri esperti avete visto che anche loro fanno notare come il fatto di diminuire la massa del grasso porti un sacco di vantaggi in termini di salute possiamo considerare l'abbiamo visto in un video che il grasso corporeo sia come una ghiandola e questa ghiandola produce un sacco di molecole infiammatorie e un sacco di problemi che alla fin fine ci fanno più male che bene un corpo magro e snello è sicuramente preferibile a un corpo molto sovrappeso con accumuli di grasso eccessivi però diciamo la verità ragazzi siamo arrivati al punto di avere una mania a riguardo perché lo dico perché un sacco di persone che si rivolgono a noi e che fanno quello che poi noi chiamiamo il nostro programma metabolico il programma yango che non è un programma di dimagrimento esattamente è un programma per rimettere in ordine il metabolismo ma queste persone ci chiedono di perdere quel chilo o due in più o quei dieci chili in più che hanno quando dovrebbero piuttosto preoccuparsi del fatto che sono malate o che hanno disturbi importanti l'obiettivo di mettere in bolla il metabolismo è quello sì di avvicinarsi al peso forma gradualmente ma prima di tutto è far finire certi disturbi se tu vuoi dimagrire e sei tutti i giorni rovinato dalla mal di testa continuo dal reflusso gastroesofageo da problemi di stomaco terribili dal microbioma intestinale confuso continua diarrea e insomma adesso non volevo entrare in discorsi disgustosi ma molte persone hanno grossi problemi sono in pre diabete e l'unica preoccupazione che hanno è quella di dimagrire c'è qualcosa che non va per fortuna in realtà le cose possono essere risolte ma bisogna capire che ci vogliono delle fasi ben precise oggi ho chiamato questa cosa dimagrimento 1 2 3 per far capire che ci sono tre fasi che vanno fatte in una sequenza questo che ti racconto è la storia di yango è una yango story cioè quelle persone che seguono il programma metabolico yango sono come vorrei dire una specie di laboratorio per noi perché ci fanno capire come il fatto di seguire delle procedure precise porti a dei miglioramenti veri incisivi la prima cosa ti mostro queste tre cose insieme ma oggi parliamo solo della prima la prima roba è togliere l'abitudine a mangiare troppi zuccheri o meglio cibi troppo glicemici bisogna dare un taglio netto perché perché sennò questo è il motivo per cui poi le diete non funzionano hai presente quando fai la dieta iperproteica insalatina e bistecchina per 15 giorni e dimagrisci ecco ma se non ti sei tolta la bramosia di cibi iperglicemici poi ci ricaschi e la chiamano il rebound ho capito il rebound cioè rebound vuol dire semplicemente che non hai risolto la bramosia dei cibi zuccherini d'accordo quindi in realtà dobbiamo dare un taglio netto a certi cibi e poi assumere un'abitudine che durerà tutta la vita che non vuol dire che non mangi carboidrati perché là si fa sempre agli estremi si vale iperproteica chetogenica cavolo una cosa equilibrata mai faremo un'analisi di tutte queste diete che promettono di dirti mangia tutto quello che vuoi di quel singolo alimento e quindi ti sfondi di quell'alimento non devi fare la fame e dimagrirai se anche è vero però ci sono sempre delle contropartite quindi tornando a noi la roba numero uno è togliere l'abitudine allo zucchero e che sia un'abitudine che poi dura tutta la vita la seconda parte ha a che fare con il metabolismo perché il metabolismo fatto di tante reazioni biochimiche che se queste reazioni biochimiche non avvengono tu non dimagrisci neanche se mangi pane e acqua tutta la vita cosa vuol dire metabolismo beh molto spesso sono carenze nutrizionali sono altre cose che non vanno ma il metabolismo in ordine tende da solo ad andare al peso forma faccio anche un esempio che non per forza sono vitamine quelle che mancano ci sono persone che bevono troppo poco e viva dio tutte le reazioni biochimiche fanno un grandissimo consumo di acqua non credo ce ne sia neanche una tra le reazioni biochimiche del corpo che funziona senza la nostra cara h2o quindi le persone disidratate qualche volta hanno un problema semplicemente di doversi idratare di più e tutto funziona bene sai che c'era una dieta una dieta farloca di quelle là truffaldine tempo fa che diceva bevi due litri di acqua al giorno la mattina il pomeriggio e già dimagrirai ma lo sapete che per alcune persone è vera è una farloccata perché ti sta dicendo che l'acqua fa dimagrire non è vero però se tu sei uno di quelli super disidratati e ti svegli la mattina e bevi mezzo litro di acqua o un litro di acqua gradualmente non è che ti fai venire una sincope ma già questo porta che veramente ti sgonfi veramente ti senti meglio veramente l'intestino comincia a funzionare meglio e quindi scarichi e certamente pesi un paio di chili di meno perché hai scaricato un po meglio l'intestino se uno ha delle abitudini completamente sbagliate è facile rimediare il problema è che poi dobbiamo vedere cos'è per ogni singola persona quindi non ti sto dando una dieta taglia unica perché tu non sei uguale a me non sei uguale all'altro che ha fatto yango non sei uguale a tua nonna tuo zio tuo figlio capito discorso quindi numero uno togliere le abitudini lo zucchero sennò ti fanno ripiombare nel grasso accumulato due metter a posto il metabolismo con quello che manca ed è molto molto personale molto da personalizzare tre a quel punto si possono fare discorsi di bilancio energetico perché ha a che fare il fatto di controllare un po le calorie soprattutto di muoversi tanto questo ripeto è una serie di informazioni che ho ricavato da yango che ha a che fare con un equip di persone che seguono i clienti di yango e quindi si va a vedere cos'è il microbioma come è messo si va a vedere qual è la carenza vitaminica insomma devi essere seguito e personalizzato niente diete a taglia unico oggi mi concentro solo sullo zucchero che noia dirai abbiamo sempre solo parlato di zucchero qua nel my lab perché è l'errore numero uno che viene fatto dalle persone il fatto che tu limiti parecchio lo zucchero o i cibi iperglicemici migliora l'apporto calorico ti accorgerai che mandi dentro molte meno calorie no e questo già ti dà dei vantaggi di dimagrimento anche solo togliendo gli errori madornali c'è il problema ormonale lo ripeto è sempre una questione di ormoni che zucchero chiama zucchero e allora tu non devi infognarti in questo problema di eccessi di zucchero non tanto perché quando mangi una torta o un po di zucchero questo zucchero ti distrugge la vita non è vero è che ti fa venire voglia di mangiarne dell'altro perché non sei alimentato in maniera corretta questo include non solo lo zucchero ma anche le farine e altri alimenti di questo genere nel my lab abbiamo rotto le scatole a sufficienza e questo è l'argomento numero uno le diete yango chiamiamole così non si possono veramente chiamare diete perché non hanno le quantità non sono fatte di 30 grammi di quello 30 grammi di quello non serve questa cosa questo ti piacerà ma la cosa più importante che viene messa davanti a ogni consiglio alimentare sono le cose da evitare che sono gli errori madornali che fanno le persone se leggi questa per esempio dice evita le bibite evita le bibite zuccherate gasate anche quelle light perché quelle anche se non hanno calorie ti rovinano la flora e questo innesca dei problemi che ti fanno comunque ingrassare a lungo termine è stato visto da molti paper scientifici che hanno indagato sull'effetto non so per esempio l'aspartame a cesulfame tutte quelle robe ame che sono in realtà sostanze non esistenti in natura e cui il corpo non sa reagire bene praticamente quindi ti devi abituare a fare la spesa in maniera un pochino differente non sono estremismi ma ci sono poi ai clienti yango arrivano una serie di informazioni su email perché ci sono tante cose da sapere ma se le diciamo tutte in un colpo rischiamo solo di confonderti e non di darti le informazioni ecco che invece arrivano gradualmente e ci sono svariati video fatti dalle nostre nutrizioniste ce n'è uno anche divertentissimo che ha a che fare con la giornata più sbagliata possibile ti svegli e fai questo errore questo errore questo errore e a qualcuno viene un po' da ridere perché dici porco cara è proprio come mi alimentavo fino all'altro giorno prima di iniziare il programma yango ecco non è un caso poi che le persone stiano meglio e poi dimagriscano anche ho parlato con una signora che è dimagrita di 16 chili e non ha cambiato radicalmente la sua dieta non ha per niente cambiato la sua dieta si è accorta dagli esami che mettendo a posto il metabolismo ed evitando errori madornali tipo lo zucchero in eccesso la sua tiroide gliel'ha detto al dottore è ripartita una tiroide pigra è ripartita e quindi il corpo vedi in questo caso è stata fortunata poteva anche non ripartire ma ribadisco c'è sempre una questione di equilibrio noi dobbiamo mirare a portarti all'equilibrio quindi sta mania di dimagrire va bene è sensata ma mettila dopo mettila insieme al fatto di stare bene perché l'unico modo di stare bene è quello di portare il metabolismo all'equilibrio se tu vuoi un estremismo vuoi calare di 5 chili in fretta e senza sacrifici prendi una sega ti tagli un braccio lo dico sempre come battuta stupida ma è stupida quanto il desiderio di dimagrire rovinandoti la salute di persone che si sono rovinate la salute con diete estreme o sport estremi ne ho conosciuti però resta sempre la sedentarietà e la pigrizia il nemico numero uno a quanto pare quindi per quanto riguarda questo poi vedremo degli altri video spero che ti sia piaciuto questo video ma fammi domande al riguardo e se sei interessato potrai trovare più informazioni sul programma metabolico qui sotto vicino a questo video d'accordo bene alla prossima allora ciao ciao ciao